oggi lavoriamo solo con il blu andiamo ok adesso quassù è troppo chiaro allora però mi serve un verde più intenso marcio anche qui poi ci sono dei punti nei quali dovrà intervenire col blu bevi Grazie a tutti. 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 Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo. Lo sai che dal giovedì alla domenica dalle nove e mezza di sera mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu! Grazie a tutti.